Benvenuti, stiamo con il professor Roberto Farnè, già professore ordinario di didattica generale che ora discende al contratto per l'insegnamento di pedagogia del gioco dello sport nel corso di lago di scienze motore presso il Dipartimento di Scienze per l'Acquietà della Vita dell'Università di Bologna. Benvenuto professore. Grazie, grazie a voi. Professor Farnè, cosa vuol dire essere insegnanti oggi e come è cambiata questa professione nel tempo? Beh, la professione nel tempo è cambiata perché sono cambiati i tempi, è cambiata la scuola, sono cambiati i bambini per esempio. Quindi da questo punto di vista, quando io sento dire che la scuola è in crisi, l'educazione è in crisi, eccetera, rispondo sempre che la scuola è fisiologicamente in crisi perché ovviamente è chiamata a gestire dei processi di cambiamento. La parola crisi va vista nel suo significato autentico, vuol dire passaggio, cambiamento, insomma, no? E quindi come tale non mi aspetto mai che la scuola sia una realtà tranquilla dove tutto funziona, dove tutto va bene, eccetera. Poi ovviamente la scuola deve funzionare, per cui ci sono criticità, diciamo, no? Che vanno affrontate e risolte perché rendono la scuola disfunzionale, ma che non sono la dimensione di crisi che significa lavorare per attivare dei processi di cambiamento. L'educazione comunque la guardiamo da qualunque punto di vista, scolastica, familiare, extrascolastica, eccetera, l'educazione è sempre cambiamento. Un bambino entra a scuola a sei anni che non sa leggere e scrivere e qualcuno gli insegna e dopo è imparato a leggere e scrivere. Questo è un processo di cambiamento che come tale esige anche sforzo, fatica, impegno. No, i cambiamenti non sono mai piacevoli. L'importante è come vengono fatti vivere questi cambiamenti. Allora, l'abilità, appunto, la competenza pedagogica, se così possiamo dire, è proprio quella di gestire i cambiamenti nei processi educativi rispettando i diritti, però, rispettando i diritti dell'infanzia, in maniera appunto che questi cambiamenti diventano formativi, cioè aiutino la persona fin dall'infanzia a definire la propria formazione, il proprio essere. Ora, oggi appunto ci troviamo di fronte a una situazione che presenta delle criticità, delle difficoltà che non erano quelle di 50 anni fa, 50 anni fa e l'altro ieri, insomma, no? Ecco, se solo pensiamo ai cambiamenti che sono avvenuti nell'arco di un paio di generazioni, che vuol dire in sostanza 40 anni, insomma, più o meno. Ecco, e queste criticità ovviamente toccano anche in maniera significativa la figura dell'insegnante. La figura dell'insegnante oggi è una figura che presenta delle difficoltà, probabilmente perché fa fatica a gestire dei processi educativi di cambiamento che hanno delle caratteristiche molto particolari. Per esempio, chi poteva immaginare 50 anni fa che i social network, che le tecnologie, che internet sarebbero stati fenomeni così invasivi nella vita quotidiana e che sfide pongono queste tecnologie all'educazione e quindi la scuola come deve porsi, l'insegnante come deve porsi, un atteggiamento di accettazione, un accettamento di rifiuto, di appunto negazione. Ecco, tutti questi aspetti oggi mettono l'insegnante di fronte a delle scelte che, ripeto, fanno parte di quella che è la fisiologica crisi della scuola nel gestire i cambiamenti dei processi educativi, ma le risposte di oggi non le possiamo trovare nel passato. Le risposte di oggi l'insegnante le deve trovare oggi, nel tempo in cui vive. E allora, da questo punto di vista, all'insegnante è chiesta non solo la competenza di tipo didattico psicopedagogico necessaria a fare l'insegnante, questo vale dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore, insomma, no? E' richiesta anche una competenza dal punto di vista del proprio essere insegnante, che non è il fare l'insegnante. Cioè il fare l'insegnante, ma anche l'essere insegnante. E, insomma, questo lo dico con un particolare enfasi oggi, perché quest'anno, fra l'altro, è il centenario della nascita di Alberto Manzi, che è stato un insegnante che ha guardato molto alla dimensione proprio dell'essere, della sua identità professionale, che andava al di là della sua capacità didattica, che pure c'era ed era molto significativa. Ecco, prendendo spunto le sue parole, le chiedo, come può un insegnante capire se la sua didattica è efficace? Beh, i modi sono diversi. Una didattica è efficace, uno può dire semplicemente perché vedo che i bambini imparano. E va bene, se imparano, ma i bambini imparano anche perché io gli impongo di studiare. E va bene, i bambini sono obbedienti, sono docili e studiano. Per cui questo sì è un indicatore, ma è un indicatore parziale. L'efficacia della didattica è un'efficacia nella relazione didattica. Si può verificare la situazione di una classe, per esempio, dove quando c'è un certo insegnante i bambini sono attenti, partecipi, interessati, eccetera. Quando c'è un altro insegnante i bambini sono disinteressati, ribelli, indisciplinati, eccetera. Eppure la classe è sempre quella, i bambini sono gli stessi. Allora, è evidente che c'è uno stile dell'insegnante che, diciamo, dà forma alla didattica. E questo i bambini, come i ragazzi, lo percepiscono perfettamente. Cioè, prima che all'oggetto dell'insegnamento, i bambini, come i ragazzi, sono interessati al soggetto che insegna. Cioè, la figura dell'insegnante, per come si pone, è più interessante di quello che insegna, della materia che insegna. Allora, ecco che l'efficacia dell'attività di insegnamento è legata, è molto legata, ovviamente, alla competenza didattica che riguarda l'insegnare storia italiano, scienze, eccetera. Ma è molto legata anche allo stile, al modo di porsi, alla capacità di costruire relazioni, all'essere autorevole come insegnante, che non vuol dire essere autoritario. L'autoritarismo è patologico in educazione perché nega il dialogo, nega la relazione, impone l'autorità. L'autorevolezza, invece, è una relazione pedagogicamente positiva perché nella assimmetria del rapporto educativo instaura comunque una dimensione dialogica e quindi è credibile per i bambini e per i ragazzi. Cioè, loro si fidano dell'insegnante quando l'insegnante sa porsi con una relazione significativa, ancorché autorevole. Abbiamo visto questo discorso legato all'efficacia della didattica, ma quanto è importante l'approccio attivo nella didattica? L'approccio attivo è uno dei grandi punti deboli oggi del nostro sistema scolastico, che la nostra scuola non è una scuola attiva. Lo è molto meno di quanto lo sia in altri paesi europei, dove la dimensione attiva, laboratoriale, eccetera, è molto più presente. Anzi, devo dire che nel corso di questi ultimi 30-40 anni la nostra scuola si è sempre più passivizzata. Questo è uno dei problemi che ha la scuola oggi. Questa passivizzazione che porta i bambini a stare seduti in classe per tantissime ore e a non usare il corpo, a non usare le mani. E questo fa male. Qui davvero noi dobbiamo riflettere in maniera molto spregiudicata sul fatto che oggi la scuola crea malessere. Crea malessere perché ovviamente agisce sui bambini, sui ragazzi, con una didattica basata molto su una pressione, tempi stretti, apprendimenti veloci, verifiche, prove di vario tipo, eccetera. Il corpo e il movimento sono relegati a frazioni di tempo insignificanti. L'Italia in Europa è il paese dove a scuola si fa meno attività motoria. E questo nuoce, questo fa male. Noi abbiamo ricerche oggi che dimostrano che i bambini a scuola incamerano malessere, incamerano malessere. E non è la pandemia, qui non c'entra niente. Cioè è sconfortante rendersi conto che ci voleva la pandemia per capire che i bambini guadagnano in salute più stanno all'aperto e meno stanno al chiuso. Una cosa che si è sempre saputa in realtà. Eppure non è bastata nemmeno la pandemia. Oggi i bambini stanno chiusi, chiusi e seduti. Chiusi a scuola, seduti a scuola, chiusi a casa e seduti, chiusi in macchina e seduti in macchina. Cioè 50 anni fa il problema non esisteva perché i bambini si muovevano. Finita la scuola facevano i compiti velocemente, studiavano e andavano fuori a giocare. E questa era la vita normale di un bambino. Che fosse in città o in compagna così era. Si trovava con i suoi amici, i suoi compagni, giocavano, saltavano, sviluppavano quelle competenze psicomotorie che facevano parte della normale vita, normale attività di un bambino fuori dalla scuola. Oggi questa dimensione non c'è più, è cambiata la città, sono cambiati gli spazi, sono aumentate le ansie, le preoccupazioni su rischi e pericoli, eccetera. Però ci accorgiamo del danno che tutto questo provoca nei bambini. Allora noi oggi abbiamo bisogno di preoccuparci di questa dimensione perché se non la curiamo questa fa male e lo si vede nel tempo. Allora dobbiamo chiederci, ognuno dovrebbe fare la sua parte, la scuola dovrebbe fare la sua parte. In realtà oggi la scuola tiene i bambini in posizione passiva, non attiva, per moltissimo tempo, per gran parte del tempo. Io faccio sempre l'esempio della scuola finlandese che è indicata come uno dei migliori sistemi scolastici nei paesi Ocse. Ebbene, nelle scuole finlandesi ogni ora di lezione c'è un quarto d'ora di intervallo dove i bambini possono alzarsi, girare, uscire, giocare, parlare, muoversi negli spazi della scuola, dentro, fuori, eccetera. E non questo perché così c'è il problema del rilassarsi o del dare sfogo ai bambini. Il problema è che gli insegnanti sanno e le ricerche confermano che quei 15 minuti liberi di movimento si riversano positivamente sui tempi didattici e di apprendimento successivi. Noi oggi abbiamo situazioni allucinanti dal punto di vista della condizione dell'infanzia e del diritto dei bambini. Abbiamo scuole dove i bambini hanno, se va bene, 15 minuti di intervallo nella mattinata, non possono uscire nel cortile, devono mangiare seduti nel banco, eccetera. Questo non solo fa male dal punto di vista psicologico e fisico, ma va contro i diritti del bambino. Allora, una scuola che non è attenta al benessere, benessere nel senso dello star bene, una scuola che non si preoccupa del fatto che i bambini prima di tutto devono stare bene a scuola, è una scuola che contraddice i suoi principi, non funzionerà bene nemmeno come scuola. Ecco, un'ultima domanda. Mi leggo quando lei parlava del discorso dell'ansia e della prestazione. Lei ha partecipato anche recentemente al convegno del Città a Piacenza e ha parlato appunto della convenzione, stavendo il paragone con lo sport e parlando della cultura del polio. Questo per dire che si parla sempre della competizione con l'accezione negativa, ma può essere questo aspetto utile alla scuola? Ma certo che può essere utile. La competizione non è una brutta parola. Bisogna veramente anche qui sfatare dei pregiudizi, insomma, degli atteggiamenti ideologici. Un conto è ritenere che la competizione sia un aspetto dove conta solo se sei vincitore, conta solo se arrivi primo, altrimenti sei un perdente. Ma questa è una ideologia della competizione. La competizione nel suo senso autentico ha un significato molto chiaro. Viene dal latino cum petere, cioè chiedere insieme. Petere vuol dire chiedere. La competizione è un patto reciproco, è una condivisione. Quando i bambini giocano competono perché innanzitutto condividono il gioco, condividono le sue regole, condividono gli altri compagni con cui giocare. Poi ovviamente si confrontano, e questa è la competizione, il confronto. Ma questo non avverrebbe se non ci fosse la condivisione. due squadre di calcio o di basket che entrano in campo competono, certo, una contro l'altra, ma prima di questo condividono. Condividono il campo, i tempi, lo spazio, le regole. Condividono tutto del gioco. Nel confronto ci sarà qualcuno che vince, certo. Ma attenzione, perché quel qualcuno che vince, vince grazie a chi ha giocato con lui. perché se io non gioco con te tu non hai nemmeno la possibilità di vincere. Se tu vinci è perché io ho accettato di giocare con te. Allora, non capire che la competizione è una grande scuola di vita, quando è leale, ovviamente, quando è partecipativa e quando chi non vince non vuol dire che è un perdente, vuol dire che ha misurato le sue capacità con altri e ha capito dove si colloca. E uno può essere più o meno bravo in un gioco, più o meno bravo in un altro. Così come ci sono bambini che sono più bravi in storia e meno bravi in matematica, altri che sono più bravi in scienze e meno bravi in italiano. E questo non crea dei problemi. Allora, un conto è vivere la competizione come l'ideologia dell'essere vincenti. E questo è terrificante, ovviamente. Un conto è vivere la competizione invece come il confronto nel quale tu conosci le tue capacità, a partire da una condivisione. Ecco, io credo che questa sia la scuola della competizione. Poi voglio dire, dobbiamo smetterla di pensare come sempre che lo sport è competitivo, quindi è diseducativo, perché educa appunto i vincitori, gli altri, eccetera. La nostra cultura, la nostra civiltà nasce nell'antica Grecia che ha inventato il concetto di agonismo. La parola agonismo significa lotta, significa mettercela tutta, impegnarsi al massimo delle proprie capacità. E guarda caso, l'antica Grecia ha inventato la competizione dappertutto. Gli antichi greci competevano non solo nell'atletismo, nelle gare atletiche, competevano nel teatro, nella musica, nella poesia. Leggete la letteratura della civiltà greca. È piena, la competizione animava tutta quella cultura. Ma perché? Noi oggi non facciamo altrettanto? Perché il problema della competizione lo vediamo male nello sport, ma adesso, ieri, è iniziato il Festival del Cinema di Cannes, che è una competizione. Alla fine ci sarà un film che vince la Palma d'Oro, un regista che sarà giudicato la migliore regia, un attore che sarà il migliore attore, ma non è competizione questa? Il Festival di Sanremo è una competizione canora, c'è qualcuno che vince e c'è una graduatoria. Perché non ci scandalizziamo di fronte a questo? I premi letterari sono competizioni dove degli scrittori si mettono in gioco con le loro opere, c'è una giuria che decide che quello è il romanzo migliore dell'anno. Ecco, allora, abituiamoci a una visione sana della competizione dove il confronto consente di conoscersi e di conoscere se stessi nella lealtà, nella correttezza. Ecco, poi, laddove la competizione invece viene inquinata, allora questo è un altro discorso e abbiamo il dovere di smascherarla e di condannarla proprio perché noi diamo alla competizione un valore alto. Ecco, guardi, siccome lei ha citato gli antichi greci e mi ricordo che proprio al convegno lei ha portato l'esempio del triathlon proprio per dare l'indicazione di come non bisogna per forza eccellere ma bisogna essere mediamente bravi per vincere. Ce la spiega esattamente? Sì, ho portato l'esempio del pentathlon che era la gara sportiva una delle gare atletiche che caratterizzavano i giochi atletici in antica Grecia quelli di Olimpia ce n'erano molti non c'erano solo le Olimpiadi erano quelle più famose ma ce n'erano molte altre allora gli greci avevano inventato questa formula che è quella ovviamente delle varie competizioni nell'antica Grecia non c'erano i giochi di squadra questi sono nati negli sport moderni in Inghilterra nel XIX secolo erano individuali ovviamente c'era il salto in lungo il lancio del disco il giavellotto il lancio la lotta eccetera eccetera poi però e quindi ognuno poteva essere un atleta eccellente in una di queste discipline era il più bravo a correre il più bravo a lanciare e così via però poi loro avevano inventato anche il pentathlon e questo io la trovo un'idea geniale vista anche dentro quella che era la filosofia della rete greca cioè la virtù insomma l'essere il migliore che cosa voleva dire essere il migliore per cui tu sei il migliore non se sei bravissimo in una cosa ma se sei mediamente bravo in tante cose diverse allora competere nel pentathlon voleva dire che tu competevi in cinque diverse discipline e dovevi ottenere il miglior risultato possibile in tutte e cinque e dunque essere vincitore nel pentathlon non voleva dire essere il più bravo nella lotta o il più bravo nella corsa perché probabilmente il più bravo nella corsa correva più bravo di te correva più di te va bene voleva dire essere mediamente bravo il più mediamente bravo in cinque discipline diverse questo mi porta appunto a questa considerazione che è una considerazione molto bella intanto nell'ambito sportivo il valore che ha il multisport per cui un bambino non dovrebbe fare almeno fino ai 10-11 anni un solo sport ma dovrebbe farne diversi perché ogni disciplina sportiva uno sport di squadra uno sport individuale uno sport di lotta una disciplina atletica sviluppa intelligenze diverse invece purtroppo noi il bambino comincia a fare calcio e fa solo calcio comincia a fare nuoto e fa solo nuoto è sbagliato dovrebbe fare sport diversi ma soprattutto questo è anche diciamo un indicatore della diciamo pedagogico per la scuola per cui un bambino a scuola è bravo non se prende nove in matematica e fra il 5 e il 6 in tutte le altre discipline allora se tu ti dico vabbè ma è bravissimo in matematica e ho capito è bravo se prende sette dappertutto allora sì che è davvero bravo perché prende sette dappertutto poi certo non è il più bravo in scienza o non è il più bravo in italiano ma è mediamente bravo dappertutto e lui potrà fare qualunque scelta qualunque scelta grazie professor Fardini per essere stato con noi grazie a voi arrivederci grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi